Il presidente pugliese Michele Emiliano e l'assessore all'ambiente Anna Grazia Maraschio hanno inviato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri della transizione ecologica, dello sviluppo economico, della protezione civile e le politiche del mare una nota per chiedere un incontro al Governo. Il tema è quello delle trivelle nel Mediterraneo. La Regione Puglia vuole illustrare le evidenze emerse dal dossier trivelle che è stato ultimato dalla Task Force Scientifica Regionale. Questi i risultati, spiaggiamento di cetacei lungo le coste, danni alla pesca locale, alterazione della biodiversità, deterioramento delle aree marine protette, ricadute negative sul turismo. Emiliano e Maraschio vorrebbero illustrare anche le molteplici soluzioni utili a trovare alternative di approvvigionamento energetico, più convenienti dal punto di vista economico e meno invasive sull'ambiente rispetto all'attività delle trivelle. Allo stesso tempo si sta lavorando a un ricorso. Il dossier è stato realizzato da un team formato dagli esperti Ferdinando Boero, CEIRA alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, Vito Felice Uricchio, dirigente dell'Istituto di ricerca sulle acque del CNR, e Angelo Tursi, professore di ecologia applicata all'Università di Bari. Grazie. 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 Grazie.